Ho scelto il regalo per Giacomo, Chivas Riegel, nella confezione con il fiocco. Pazdrav, ma che cosa hai scritto? Pazdravlaiu, auguri in russo. Già, che è appena tornato da Mosca. Grazie. Chivas è molto apprezzato in questa casa. Chivas Riegel, prestigioso, raffinato. Ma il biglietto cosa dice? Auguri in russo, torni da Mosca e non lo sai. No, ho imparato solo a dire grazie. Chivas Riegel, il più regale dei whisky.